Alla pubblica di Porta a Porta, oggi è la giornata in cui in tutto il mondo si celebra la violenza sulle donne e ce ne occuperemo veramente in maniera ampia nella seconda parte della trasmissione. Ci occuperemo naturalmente anche dei vaccini, la vaccinazione dei bambini che sta facendo molto discutere, ma apriamo la trasmissione proprio con una ragazza vittima di un altro tipo di violenza e cioè, buonasera, buonasera a Marianna. Marianna, che è andata anni fa sulle cronache come la ragazza dei parioli, è una ragazza che si concedeva per denaro, ma si concedeva a 14 anni e gli uomini ai quali si concedeva non erano certo dei coetanei. Quanti anni avevano gli uomini? 40-50 anni più o meno, l'età migliore. E sapevano che lei, che adesso ha 23 anni, sapevano che lei aveva 14 anni? Beh, sicuramente la maggior parte lo immaginavano, quindi penso di sì. Insomma, non ne dimostrava 20, insomma, non c'era l'equivoco dicendo non sapevo di andare con una minorenne. Esatto. E perché sapevano di commettere questo che oltre ad essere un reato è una cosa tanto brutta, diciamo? Perché lo facevano? Questo io non posso sicuramente dirlo con certezza. Credo che chi commette atti illeciti sia poi una persona che forse non sana, no? In qualche modo o comunque con dei problemi irrisolti e quindi credo per questo, forse per qualche mancanza, per... Ma che le dicevano? Ma... Parlavano con lei? C'era molto, molto poco dialogo perché poi si cercava subito di arrivare a... Al punto. Al punto, esatto. Senta, e lei perché lo faceva? Io ad oggi la motivazione... Ripensandoci, ecco. Esatto. Ripensandoci. La motivazione che do a me stessa era, come dicevo all'epoca, lo facevo per soldi. I soldi però in quel momento rappresentavano per me un vuoto, un colmare, un vuoto che attraverso i beni materiali, no? Io potevo in qualche modo appunto colmare, no? Cioè, comprare la maglietta mi faceva pensare che in qualche modo potessi avere, come posso dire, il controllo, no? Su di me, in qualche modo, un po' un concetto complicato da spiegare. Allora, lei è stata la protagonista del documentario della ragazza dei Parioli. che è andata in onda ieri e l'altro ieri sul canale Sky ed è prodotto da Rosa Chiara Scaglione per Event Horizon. Vediamo un momento la sua prima volta, come viene fuori da questo documentario. Mi ricordo che... Stavo sdraiata. Accanto c'era... la mia amica. Sopra avevo quest'uomo che non... per fortuna non ha tentato il contatto visivo e... immobilizzata un nodo in gola e nella testa dicevo non torni più indietro non torni più indietro ma te lo ricorderai per sempre. Già dopo la prima volta lei era convinta che non sarebbe tornata indietro? Esatto. Sì. Perché fu talmente brutto che qualcosa dentro di me cambiò completamente. Non sentiva di perdere qualcosa? Sì. Persi in qualche modo le mie emozioni la mia anima in qualche modo usci fuori dal mio corpo forse probabilmente per protezione però da quel momento io divenni totalmente apatica. Senta non era facile per lei fare a meno dei soldi? No. Non era facile proprio perché attribuivo ai soldi l'autonomia no? Attribuivo ai soldi l'autonomia quindi io pensavo da ragazzina se avevo i soldi potevo fare tutto quello che volevo da sola no? Posso chiederle quanto guadagnava? Sinceramente non penso sia una domanda idonea nel senso che Allora possiamo dire che guadagnava abbastanza per comprarsi delle cose molto lussuose? No. non possiamo dire questo perché non guadagnavo somme di denaro importanti ma al di là di quello non era il marchio che compensava il mio vuoto anzi proprio il come ho già detto perché avevo un vestito che lei non aveva mai visto perché appunto una volta mi vide i soldi dei soldi che lei non mi aveva dato e lei disse e lei disse che si procurava spacciando esatto esatto perché in quel momento mi sembrava meno grave rispetto a insomma e sua madre come reagì? e sua madre come reagì? mia madre fu fu sicuramente spaventata e cercò di mettermi allerta successivamente non seppe gestire la situazione per anche tutto quello che ci circondava quando ha capito qual era la vera fonte di questi soldi? Allora io credo che lei non non ne abbia mai avuto in quel periodo la piena coscienza nel senso che presa dalla dalla paura della conseguenza che potesse avere questo pensiero della prostituzione si tappò un po' gli occhi no? per per non per la paura di non sapere affrontare una cosa del genere quindi quanto tempo è durata questa sua attività diciamo? tre mesi più o meno solo tre mesi? sì e sua madre però è andata in prigione per questo? sì sì mia madre diciamo che dopo un mese e mezzo due cominciò a a capire sì a insospettirsi dei soldi infatti allora però poi c'era una nonna sì vediamola un momento nel film non so se era un sabato e mi fa nonna vieni a casa che ho paura perché mi sento delle mani fredde addosso come Maria ma che dici hai sognato? no nonna vieni a casa che io mi sento delle mani addosso gelate sono i fantasmi guarda i fantasmi non esistono gli ho detto ma li vengo subito erano le tre di notte sono andata me la so abbracciata e si è messa con me sul letto e poi a una certa ora me ne sono andata si è tranquillizzata e me ne sono andata ho detto che vedeva ombre sentiva le mani fredde addosso non capivo non ho capito quello che stava succedendo e questo me lo porterò fino alla tomba di non aver capito proprio la situazione cioè io vivevo nel limbo forse non lo so quando ha capito sua nonna? nonna non ha mai capito ha capito quando quando successe il tutto in procura quando glielo comunicarono le autorità sicuramente aveva aveva visto che io non stavo bene però lei effettivamente faceva il ruolo da nonna la vedevo due volte a settimana attribuiva questo mio malessere all'adolescenza sicuramente non non poteva mai immaginare una cosa del genere senta Marianna lei aveva 14 anni sì adesso ne ha 23 sì che è successo in questi nove anni in questi nove anni sicuramente ho affrontato un percorso psicologico e riabilitativo in comunità che mi ha fatto capire molte cose mi ha fatto capire che tutto si può recuperare mi ha fatto capire che è importante comunicare mi ha fatto capire che anche da una cosa brutta può nascere una cosa bella io ho riscoperto me stessa e allora vediamo il frammento sulla rinascita ora come pensi di uscirne da questa storia così quindi dimmi il tuo pensiero non so niente a nessuno e ritornare alla vita normale senza soldi come pensi di poterti adattare non lo so 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 non so nemmeno se ce la farò e sinceramente non so nemmeno se ce la faccio non riparlo capito perché comunque cioè se ti abitui a essere iniziata fin da piccola alla fine ti rimane un po' cioè è difficile adattarsi è difficile adesso per me pensare che devo andare in giro con i mezzi pubblici tu come giri col taxi ok e mo non me la immagino una vita diversa posso fare io una domanda adesso sì che succede ora la persona è totalmente diversa anche a me ha fatto parecchio effetto quando l'ho rivisto allora lei poi sei diplomata sì grafica pubblicitaria sì fa la tatuatrice pure esatto però lavora anche in un supermercato esatto sta al banco sì e c'è un fidanzato sì che lavora al supermercato esatto e il fidanzato le ha mai chiesto del passato glielo ho detto io quando iniziamo a fare amicizia mi senti subito in confidenza con lui quindi le gli raccontai subito tutto dopo veramente poco tempo prima che ci fidanzassimo e lui? e lui rimase sicuramente incuriosito dalla storia che ci fosse poi una ragazza alla fine normale dietro e non quello che è stato descritto in passato che insomma è stato un po' duro per quanto ne sa lei non ce ne occupiamo a suo tempo quante ragazze hanno fatto la stessa scelta se possiamo dirlo lo stesso errore? eh tante ragazze sicuramente e sicuramente ce ne sono ancora tante e non solo nei nei quartieri più abbienti no? cioè ce ne sono anche tante altre quindi bisogna anche spostare l'attenzione da tutte le parti no? cioè è importante tante storie di cui non sapremo mai niente esatto esatto auguri Mariana grazie buona vita grazie adesso il telegiornale adesso il telegiornale